Gare, mostre, hobby, sport per i più piccoli, sicurezza stradale, moto a concentrazione per moto moderne e storiche e lo spettacolo di Fabio Lenzi, 16 volte campione italiano trial. Tutto questo racchiuso in un solo weekend per far vivere ad appassionati o curiosi il motociclismo appieno. Appuntamento per il 3-4 maggio sul tracciato di Franciacorta, dove andrà in scena il primo round stragionale dei trofei moto estate 2014. In pista oltre 200 piloti, suddivisi in 8 categorie, daranno spettacoli ed emozioni, mentre nel paddock i protagonisti saranno gli spettatori. Sprint House e Motoclub Ducale, organizzatori del moto estate, propongono una vera festa del motociclismo aperta a tutti per vivere un weekend diverso dal solito. I bambini potranno provare l'ebrezza di salire su una moto con l'aiuto di tecnici esperti con il corso hobby sport. I più grandi potranno fare un salto nella storia grazie alle moto d'epoca che arriveranno per il primo raduno di Franciacorta, grazie alla rivocazione del circuito di Flero e grazie alla mostra dedicata ai piloti bresciani che hanno corso nelle categorie del moto mondiale e della superbike. Spazio inoltre alla sicurezza stradale con la presenza della polizia e del suo pulman azzurro e dell'associazione motociclisti in Colombo. Concessionari, venditori di abbigliamento, ricambisti e tanti altri espositori avranno un proprio villaggio per presentare e vendere i propri prodotti. Tutti invitati dunque al primo round con i trofei moto estate per vivere un'esperienza unica.